Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, l'Iddio che ha fatto tutte le cose, cioè il creatore di tutte le cose, quindi dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che è in essi, a Bantico, per mezzo dei suoi profeti, preannunziò la venuta del suo Cristo, ossia del suo unto, e preannunziò che egli avrebbe compiuto l'espiazione dei nostri peccati. Infatti, il Dio, per mezzo del profeta Isaia, aveva detto, del suo unto, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il Dio disse anche queste parole, l'Eterno ha fatto cadere su Lui l'iniquità di noi tutti. Egli dunque, cioè l'unto di Dio, si sarebbe caricato dei nostri peccati, li avrebbe portati nel suo corpo. E quindi avrebbe sparso il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati. E questo si è adempiuto in Gesù di Nazareth. Infatti, egli è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Egli non commise alcun peccato. Era puro d'ogni colpa. Fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare. Cioè, Gesù non conobbe peccato. Peraltro, Gesù il Cristo non nacque, non fu generato da seme d'uomo, ma fu generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine di Nazareth, una cittadina in Galilea, di nome Maria. E questo affinché si adempisse ciò che era stato detto anticamente infatti era stato detto dal profeta ecco la vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele. Dunque nella pienezza dei tempi è nato a Betlemme la città della Giudea Gesù che è il Cristo di cui appunto Dio aveva preannunziato la venuta venuta che è aveva come scopo quello di appunto compiere l'espiazione dei nostri peccati Egli infatti dopo avere dopo essere stato unto di Spirito Santo e di potenza all'età di circa trent'anni andò in giro attorno facendo del bene tenete presente questo che Gesù fece soltanto del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con lui Egli fece segni prodigi e opere potenti perché il Dio era con lui ma i giudei lo odiarono lo perseguitarono e poi lo arrestarono uno dei discepoli di Gesù infatti di nome Giude Scariota lo diede nelle mani ai capi sacerdoti e agli anziani lo vendette loro quindi essi lo arrestarono lo condannarono a morte naturalmente ingiustamente perché Gesù non aveva commesso alcun peccato degno di morte non aveva commesso alcunché di male eppure i giudei mediante il sinedrio lo condannarono a morte per bestemmia perché aveva dichiarato Gesù di essere il figlio di Dio ed era il figlio di Dio ma essi non gli credettero e poi dopo che lo condannarono a morte lo diedero in mano di Ponzio Pilato il governatore della Giudea Ponzio Pilato il quale sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso perché i giudei gridarono crocifiggilo crocifiggilo il loro desiderio era quello di vedere Gesù in croce crocifisso e allora Pilato per soddisfarli sentenziò appunto che fosse fatto quello che il popolo chiedeva ma tutto questo avvenne affinché si adempissero le scritture il Dio guidò tutti affinché si adempisse quello che aveva detto dover accadere e infatti questo è quello che avvenne Gesù fu portato al Golgotha e crocifisso in mezzo a due malfattori i quali invece meritavano di essere crocifissi avevano fatto delle cose malvagie degne appunto di morte ma Gesù non aveva commesso alcunché di male ma era il Cristo e quindi si dovevano adempiere in lui le parole dei profeti e così egli là sul Golgotha portò nel suo corpo i nostri peccati egli noi vi dichiariamo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e dopo essere morto cioè dopo che ispirò egli fu posto nel sepolcro fu seppellito il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti affinché si adempissero le parole di Davide che era profeta il quale aveva preannunziato la resurrezione del Cristo dicendo e anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione in un altro luogo cioè in un altro salmo e gli disse appunto citando le parole delle parole di Dio tu sei il mio figlio l'oggi ti ho generato anche queste parole infatti riguardano la resurrezione del Cristo quindi Gesù Cristo risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio quindi si fece vedere vivente con molte prove per diversi giorni ed egli è risuscitato a cagione della nostra giustificazione quindi questa è la buona novella che vi annuncio che Gesù di Nazareth è il Cristo e egli è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio questo è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente quindi tu che sei sotto il peccato che sei schiavo del peccato devi sapere che per essere affrancato dal peccato devi vederti e credere nell'Evangelo devi considerare questo che nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede il che significa che credendo nell'Evangelo l'uomo viene non solo affrancato dal peccato ma viene anche giustificato viene reso giusto e quindi devi sapere che la salvezza è per grazia mediante la fede come anche la giustificazione la giustificazione che dà vita è per grazia mediante la fede quindi non puoi meritarti né la salvezza né la giustificazione tu sei sulla via della perdizione sei sulla via della perdizione perché in quanto peccatore sei nemico di Dio e i nemici di Dio sono sulla via della perdizione quindi per essere diciamo salvato devi ravvederti e credere nell'Evangelo allora il Signore ti salverà ti giustificherà ti darà la vita eterna e ti strapperà al fuoco dell'inferno cos'è l'inferno? l'inferno è un luogo di tormento è appunto il luogo dove tu sei diretto sei diretto all'inferno appunto perché sei un peccatore l'ira di Dio è sopra di te non c'hai non c'hai scampo non c'hai scampo c'è solo una via di salvezza e la via di salvezza appunto è quella che ti ho mostrato quella del ravvedimento della fede nell'Evangelo non c'è alcun'altra maniera diciamo per cui tu puoi essere salvato non c'è nessun altro che ti può per mezzo del quale tu puoi essere salvato all'infuori di Gesù ricordati Gesù Cristo è il salvatore del mondo in nessun altro la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati quindi ti esorto tu che appunto sei sotto il peccato e che sei sulla via della perdizione a ravvederti a credere dell'Evangelo il Signore avrà misericordia di te ti salverà dai tuoi peccati ti giustificherà otterrai la remissione dei peccati perché vedi Gesù sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati e otterrai la vita eterna sì la vita eterna e quindi avrai la certezza che quando morirai ti dipartirai dal corpo e andrai ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli quindi credendo nell'Evangelo smetterai di essere sulla via della perdizione per te non ci sarà più l'inferno alla fine del corso ma ci sarà nel corso della tua vita ma ci sarà il Paradiso il Regno dei Cieli quindi uomo donna che tu sia ravvediti e credi nell'Evangelo della grazia di Dio e Dio ti farà grazia Dio avrà misericordia di te gusterai la bontà di Dio chi ha orecchi da udire oda di Dio di Dio di Dio di Dio